Con una ordinanza dell'Ufficio Tecnico del Comune di Battipaglia servete la cittadinanza che da domani fino all'ultimazione dei lavori ci sarà la chiusura della carreggiata di via del Centenario nel tratto di strada compreso tra via Adice e prima del chiosco adibito alla vendita dei giornali ubicato di fronte al civico 124, destinando l'altra alla sola circolazione veicolare in ingresso con provenienza lato centro con direzione rotatoria allo stradale Salerno-Reggio Calabria. Si legge inoltre che è prevista l'istituzione e collocazione di tutta la segnaletica stradale e disattivazione dell'impianto semaforico di via Mazzini, via Italia, piazza Mendola con sola attivazione della funzione di lampeggiante.